Su questa immagine che si basano le letture più ottimistiche sull'epidemia in corso, le letture di chi spera, e tutti lo speriamo, che l'impatto del coronavirus sia limitato nella durata e nelle sue conseguenze. Cosa ci dice? Che la crisi SARS era durata otto mesi complessivamente, con un picco massimo a 4 mesi dal primo caso riconosciuto. Se il coronavirus seguisse lo stesso andamento della SARS non saremmo lontani dal picco e quindi dalla fase di declino. C'è un problema. Il problema è che non sappiamo se il confronto con la SARS sia corretto. Partiamo dalla facilità di diffusione. È uguale o diversa? Negli otto mesi della vecchia SARS il numero di contagiati è stato poco più di 8000. Il coronavirus in tre mesi ha contagiato quasi 75 mila persone, molti di più il che avvalora la tesi di una maggior trasmissibilità. Cattiva notizia. Un quadro più positivo nel confronto SARS-Coronavirus emerge invece dai dati sulla mortalità. Per il coronavirus solo il 2%, mentre per la SARS è stato l'11% con quasi un migliaio di morti. Coronavirus dunque meno pericoloso, ma non sappiamo per quanto tempo sarà così. Cosa ci dicono i dati sul contagio al di fuori dei confini cinesi? Per il coronavirus sono solo il 2%, mentre con la SARS erano più del 37%. Sembra che, nonostante la Cina sia oggi enormemente più connessa con il mondo rispetto a 16 anni fa, con quindi maggior facilità di diffusione globale, le misure di contenimento adottate dal governo di Pechino e da altri paesi siano più efficaci. Infine, con buona pace, delle immancabili teorie compottiste che ipotizzano un attacco biologico preparato in qualche laboratorio segreto di un paese ostile alla Cina, sappiamo che il coronavirus, come la SARS, ha avuto origine da un pipistrello e, tramite altro animale, è stato trasmesso all'uomo. Sappiamo anche che, come nel mondo al tempo del colera, in attesa di un vaccino la risposta più efficace è ancora l'isolamento, la quarantena e la protezione con mascherine come questa, ormai un bene introvabile in Cina e sempre più visibili anche fra noi. Ma alle risposte, soprattutto quelle cinesi, all'epidemia, dedicheremo la prossima puntata di Un mondo ai tempi di coronavirus. Seguiteci. Grazie. 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 Grazie.